Ah! Ma tu sei com'è? Credo che fossi! Calma, 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 calma! Aspetta un momento! Allora, tu chi sei? E chi è il tuo saco? Mi chiamo Topolino! Topolino, vostra mesta! Cioè, voglio dire... Ah, il mendicante! Bet Topolino, ti ringrazio per avermi salvato la vita! Stavo per morire di noia quando hai interrotto la mia lezione! Ma lo sai cosa significa essere un principe? Non c'è mai del tempo per se stessi! Colazione alle sette! Lezione fino a pranzo! Scherma fino all'ora del tè! Ed ogni sera banchetti, nient'altro che banchetti! E alle nove a letto a dormire! Ah, un bel letto! Oh, come invidio la tua libertà! E il poter giocare tutto il giorno! Non dover studiare per forza! Baldoria fino a tardi! Panini e patatine! Quanti ne mangerei se solo potessi prendere il tuo posto per un giorno? Sì, che idea grandiosa! Non dover studiare per avermi salvato il giorno! Non dover studiare per avermi salvato il giorno!